Palla per Gasbarroni invece dall'altra parte Si è rialzato Marco Brighi Ancora Gasbarroni Prova a far filtrare la sfera Ancora per Gasbarroni Gasbarroni entra in area Gasbarroni Nessuno riesce a fermarlo Ancora Gasbarroni Azione di rompente Ed è un pareggio da parte di Gasbarroni di alta classe Ancora Gasbarroni Monzale, 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 Monzale Ancora Gasbarroni Ancora Gasbarroni Ancora Gasbarroni Ancora Gasbarroni Ancora Gasbarroni Ancora Gasbarroni Ancora Gasbarroni